Maria assunta in cielo Assunta significa che alla fine della sua vita sulla terra Maria è stata portata in cielo, anima e corpo. Anche Gesù è salito al cielo, ma per lui non diciamo che è stato assunto, ma che è asceso. Che differenza c'è? Maria è stata assunta, cioè portata in cielo attraverso la forza di Dio. Gesù invece è asceso, cioè è salito al cielo con la sua propria forza, perché lui è Dio. L'assunzione di Maria potrebbe sembrare davvero strana, ma è importante perché ci mostra quanto Maria è stata fondamentale nella storia della salvezza dell'umanità. Dopo aver ricevuto l'annunciazione dell'angelo, Gesù fu concepito dentro di lei. Poi è stata con lui durante la sua infanzia, nell'età adulta e durante la sua passione. Maria è stata la sua prima discepola. Lei è rimasta unita a lui durante tutta la sua vita sulla terra. È poi stata portata in cielo, anima e corpo, per poter rimanere unita a lui per sempre. Che cosa significa tutto questo per noi? Maria è un essere umano, proprio come noi. Ognuno di noi è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Siamo quindi tutti degni di cura e rispetto, non perché siamo supereroi, ma perché Dio ci ha amati per primo. Maria è la mamma di Gesù e la nostra mamma. Lei è anche un modello per tutti i cristiani nella Chiesa. Noi, in Maria, troviamo un esempio per dire di sì alla volontà di Dio. A volte può essere difficile fare come lei nell'accettare i progetti di Dio. Così noi chiediamo a lei di pregare per noi, nel rosario. Infine Maria ci mostra dove porta il nostro cammino di fede, nella felicità del paradiso. In questo modo è un segno di speranza per noi. Anche noi speriamo di essere pienamente uniti a Dio in cielo e per il resto dell'eternità. Anche noi speriamo di essere pienamente uniti a Dio.